Considerato un materiale senza pari, largamente utilizzato perché estremamente duttile, resistente al fuoco, all'acqua, agli agenti atmosferici, l'amianto è disseminato in tutta Italia e in larga misura anche in Tarentino. Peccato che la fibra di questo minerale, dispersa nell'aria e inalata, si trasformi in un vero e proprio killer silenzioso e, dicono le stime, causi 100.000 morti ogni anno, 4.000 dei quali in Italia. Sono delle fibre di amianto, dei filamenti che vengono inalati. Questi filamenti si, direi, inseriscono nell'albero respiratorio e nella periferia e a distanza di numerosissimi anni, si calvo dai 15 a 20 anni, danno una irritazione, una infiammazione della pleura, che è la membrana che avvolge il polmone e si verifica il colletto mesotelioma pleurico, che è uno dei tumori peggiori che esista per il polmone. Questi tumori purtroppo una volta scoperti, e vengono sempre scoperti in fase avanzata, sono inoperabili. Raramente li scopriamo in fase iniziale e sono in concomitanza, con accertamenti vari, e allora sono quei rarissimi casi di operabilità. Per una volta che si è instaurato il mesotelioma pleurico questo è praticamente inoperabile e intrattabile. Nel nostro Trentino, io ho fatto una stima anni fa, ne avevamo una quindicina, ventina, comunque esiste una certa incidenza anche in Trentino, non altissima, però c'è questa. Si è visto che l'unico modo per evitare la prevenzione, cioè evitare che queste persone abbiano contatto con queste fibre di amianto e di conseguenza possono contrarre questa malattia. 500.000 euro per il 2012 ed altri 3 milioni di euro sui due anni successivi. Questo l'impegno di spesa previsto dalla proposta di legge bipartisan, recentemente approvata dalla terza commissione permanente del Consiglio, frutto della fusione di due documenti, affirma Michele Nardelli e Claudio Ecker, che prevede un piano organizzato di rilevazione, monitoraggio, bonifica del Trentino dall'amianto. Trentino è ampiamente coinvolto dalla questione. Se si pensa che stando ai rilievi emersi dalla mappatura su tutto il territorio, il problema riguarda una superficie di 2.700.000 m2. 500.000 euro per il 2012 e complessivamente 3 milioni di euro per i prossimi due anni. Saranno sufficienti? Allora, se noi dovessimo procedere ad una bonifica globale dell'amianto presente in Trentino, non sono assolutamente sufficienti. Noi contiamo che con un intervento di un milione e mezzo di euro all'anno, calcolando che la provincia interviene come contributo a fronte anche di un intervento dei soggetti privati, vuol dire sostanzialmente almeno 3 milioni di euro all'anno. A questo aggiungiamo l'intervento sull'IRAP, dovrebbero diventare 4 e mezzo all'anno e quindi un intervento che comincia ad avere una sua dimensione significativa. In che misura interviene la provincia? La provincia interviene in una misura massima del 70% per quanto riguarda gli enti pubblici, i comuni e i soggetti privati. Il disegno di legge prevede anche un'azione informativa. Quanto è importante? Questo è importante perché le persone molto spesso non sono a conoscenza del pericolo. Quando si fa la ristrutturazione di una vecchia casa, per esempio, le ditte edili devono mettere nelle condizioni i lavoratori di sapere cosa si va incontro quando si trova situazione con la presenza di amianto. Una lastra di amianto che è intatta non è di per sé pericolosa. Nel momento in cui questa è lacerata oppure viene spezzata, allora il problema diventa immediatamente serio perché si liberano nell'area particelle, appunto, fibre di amianto e sono quelle pericolose. Un disegno di legge ampiamente condiviso che arriva all'indomani della sentenza di condanna a 16 anni dei vertici dell'azienda Eternit emessa dal Tribunale di Torino per la strage dei lavoratori vittime dell'amianto. Almeno la salute sia trasversale perché la salute non è né di destra né di sinistra. Tutti quanti, chiunque ha avuto questi problemi, sa benissimo che deve affrontarli in modo. E la salute è veramente uno dei campi, degli argomenti cui veramente posso dire che modificando gli apporti di entrambe le forze, di tutte le forze politiche, alla fine si riesce a portare a caso un risultato accettabile, direi buono.